via santa maria e questa è la chiesa di santa maria delle grazie oggi piove questa sembra piavosto vediamo un po qui cosa c'è scritto qui c'è l'ex monastero dei frati benedettini si danno almeno una pulita almeno fanno le visite guidate qui il numero romano che c'è scritto anno a domini 1874 la d il numero 500 m 1000 quindi la d hanno posto la m significa a no quale hanno domini cioè te l'emma e mille di dobbiamo 500 cc 200 e 50 2x 20 mostroncino davanti a via 5 quindi hanno domini 1774 ecco la chiesa di santa maria della grazia qui sotto c'è il cimitero la pineta